Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Minecraft Allora, com'è andata nella settimana scorsa? Spero bene Allora, adesso abbiamo un bellissimo progettino, semplice, semplice, oddio bellissimo Non so quanto bello potrebbe essere Possa essere, potrà essere, vabbè, però diciamo che è semplice, almeno su quello sì, è molto semplice Allora, prendo una cosa che in teoria dovrebbe essermi utile se non ricordo male, ovvero un po' di queste Forse sono anche troppo in ma non importa E andiamo, aia, aia, subito alla zona Aspettate che mangiamo un po' di pesce La possiamo fare? Sì, ce la possiamo fare Andiamo subito nella zona in cui andiamo a fare questo piccolo progettino Anche se prima vi faccio vedere gli ultimi accorgimenti, gli ultimi due cosettine sistemate Nella zona in cui abbiamo lavorato nello scorso episodio Ovvero quella qui davanti dove c'è il parco Adesso ve lo faccio vedere un attimino da fuori di nuovo Da qua Adesso ho render distance un po' bassina Però per farvi vedere era questo Adesso si vede, non si vede Vediamo se possiamo mettere qualche chunk in più Tanto per, ecco Era questa qui Piacerebbe mettere, ecco, dei coralli Però non ho trovato ancora i coralli Però in compenso ho recuperato un bel po' di pesci Ci ho messo parecchio tempo a prenderli e portarli qua Ne ho riempito qui sotto e anche quello più su Così adesso ci sono anche i pesci, si muovono tutto Mi piacerà mettere quelli tropicali Ma bisogna trovare le barriere coralline per farlo Un'altra cosa fatta Adesso non mi ricordo così Di qua Vi ricordate gli spiazzetti che ho fatto? Ebbene, ci ho messo qualcosina così Ecco qua, vedete dei tavolini e delle sedie Avevo un po' di questa arenaria rossa L'ho utilizzata qua Dopo per ora è ancora aperto Vedrò di costruire e fare qualcosa O semplicemente un classico passaggio sotterraneo Quelli che a me piacciono tanto E che corrono sotto tutta la base O tutte le strutture, eccetera E che più o meno le collegano Quasi tutte Dico quasi Perché non proprio tutte quante le strutture Sono collegate sottoterra Allora, noi dobbiamo andare sul lato di qua Così vi faccio vedere anche l'altro Ecco qui Anche qui ho messo sempre i tavolini così Con i... come cavolo si chiamano? Le impalcature e un tappetino giallo Che ci stanno molto bene per fare i tavolini Allora, noi dobbiamo andare qui sotto Ed è qui dove andremo noi a lavorare Ovvero faremo due ascensori Con questo qui Giusto? Esattamente Allora, prendiamo un po' tutto E recuperiamo anche la shulker box Allora, come dobbiamo cominciare? Ecco, ho già dimenticato qualcosa Vedete? Vedete? Mi sono già scordato di una cosa importante Ovvero di cartelli O comunque un modo per fermare l'acqua Ehm... 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 Vabbè Adesso Con cosa la cavolo la fermo? Ehm... Non c'ho dei cartelli Ma va bene Per ora lasciamo perdere Allora, comunque Essenzialmente noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un blocco di magma qui E un blocco di soul sand qui Poi Ehm... Mi servono dei materiali Aspettate un attimo Vado a recuperarli Eccomi Allora, sono tornato Ho recuperato un po' di cartelli Per bloccare l'acqua E procediamo Allora In realtà adesso dovrei andare in cima Ma va bene Come facciamo? Mettiamo qui dei cartelli Almeno temporaneamente Per bloccare l'acqua Adesso Aspetta Questa è di troppo E possiamo fare così In teoria dopo l'acqua è bloccata Per adesso facciamo in questa maniera bruttissima Per bloccare l'acqua Poi dopo sistemerò bene tutto In una maniera un po' più Ehm... Carina da vedere Insomma Per adesso mi interessa il concetto Ehm... Adesso andiamo in cima E mettiamo quest'acqua Queste ci servono dopo Allora Allora La cima Dovremmo poterla raggiungere Saltando un po' qui e là Iaiaiaiaiai Saltando un po' qui e là Anzi Possiamo usare l'acqua Per salire Vedete anche qui ci sono i pesci Scegliamo super l'acqua Adesso è anche notte Quindi potremmo trovare brutte sorprese Esattamente dei ragni alle calcagna Ma non importa Allora Creeper Odioso Creeper Parcuriamo un po' su Su questa montagna Perché qui è esattamente Dove dovremmo arrivare poi Ehm... Tu muori Muori Ok Un momento di lag Pazzesco Allora Dato che siamo qua in cima Io farei già anche La La bandiera Aspetta Allora Mi servono delle impalcature Qui Potrebbero andare bene No Non voglio questa Ok No Vabbè No Che pizza Ok Così dovrebbero andare bene Urca Poi dai Questi li caveremo via Allora Si fa Uno Due Tre Quattro E cinque Poi prendiamo Se non vado Adesso magari Sicuramente sbaglio Andiamo qui E facciamo Uno Due Poi Adesso si Ho bisogno Di metterne uno Di lato No E perché non lo fa Ti odio Morte Ti odio tantissimo Ehm Poi Aspetta Uffa Perché le cose Non funzionano mai Come dovrebbero Va bene Allora Facciamo la vecchia maniera Ovvero Uno Uno Poi adesso La vado a recuperare E anche qui Uno Uno Quindi recuperiamo Questo Senza precipitare Di sotto Invece lui È precipitato Di sotto Andiamo a recuperarlo Aio Guardate se devo avere Tutti questi problemi Per fare una semplice E stupidissima bandiera Perché stavo dicendo Barriera Non lo so Dai Allora Adesso sali Dove ti sei incastrato Si può sapere Dove cavolo Ti sta incastrando Ok E allora Mettiamo questo Qui E questo Qui Adesso rimuoviamo Queste Belle Ma fastidiose Impalcatura Le recuperiamo Magari Ok Le abbiamo prese tutte Sì Mi pare di sì E Che fastidio Non volevo mangiare Pesce Ma uccidere Lo zombie Allora Il buco Per salire Dove Che l'avevo fatto Non mi ricordo più Mi pare Qui sotto Si Trovato Stava qui sotto Allora Quello che dobbiamo fare Noi adesso È Mettere Quest'acqua Così E così Però adesso Anche qua Devo mettere I cartelli Togli questo Metti questo Ho fatto un disastro Lo scommetto No Ok Non l'ho fatto Ho fatto meno disastro Del previsto Ma vabbè Signore Qua l'ho progettata Proprio male Adesso abbiamo messo L'acqua Bene Però Questi qui Non funzionano Se c'è una fonte D'acqua corrente Noi come facciamo Per toglierla Ci piantiamo Posso piantarle Devo togliere via Questi E poi piantarci Questi E dopo Rimetterli Ai 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 Ok Quindi adesso Se io faccio così Posso Continuare Esatto A piantarli In questo modo Le fonti d'acqua In teoria Di acqua corrente Dovrebbero diventare Delle fonti d'acqua Statica In teoria Lo stesso Devo fare Sul lato di qua Quindi Ci rimettiamo Da qua sotto E continuiamo A piazzare Le kelp Le alghe Come cavolo Si chiamano Fino ad arrivare In cima Ok Adesso ci ributtiamo Di sotto E le distruggiamo E qui sotto Ci mettiamo I blocchi Di cui abbiamo bisogno Quindi così Quindi se adesso Io metto La soul sand Dovrebbe partire Eccolo là L'effetto Delle bollicine E di qua Invece Mettiamoci Questo E dovrebbe partire L'altro effetto Che è quello Esattamente Come vedete È partito Che tira giù Tutte le Entità Adesso noi da qua Velocemente Saliamo Fino in cima Qui E da qua Possiamo Tranquillamente Raggiungere La cima Ho fatto questo ascensore Così carino Solo per arrivare Su in cima E anche perché È una delle Vecchie Ormai Vecchie novità In quanto ad ascensori Di qua Si scende Anche a velocità Discretta Note se Usiamo lo shift Lo shift Forse andiamo più veloce E di qua Forse andiamo più veloce Anche con lo spazio Non lo so Comunque è un ascensore Molto carino Molto veloce E molto molto semplice Da realizzare Poi adesso lo sistemerò Perché messo così Fa proprio cagare Ma nel vero e proprio senso Della parola Perché fa proprio schifo Con i cartelli così Eccetera Troverò un modo adesso Per sistemare la cosa Anzi forse con un blocco Più sotto I cartelli non mi servono proprio Va bene Adesso Penserò un pochino Come sistemare la cosa Adesso andiamo da lontano Sempre se non lagga E vi faccio vedere Il risultato finale Con la bandierina La vediamo da qui Sì Eccola là La piccola bandiera Dell'Italia In cima alla montagna E per questo video è tutto Vi ringrazio per la visione Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Noi ci rivediamo In un prossimo video O in un prossimo episodio Della serie di Minecraft Qui in sede di chiusura Vi dico che Molto probabilmente Anzi Probabilmente Per il mese di dicembre Potrei riuscire a fare Due episodi di Minecraft Alla settimana Non mi prometto niente Posso provarci Vediamo se ci riesco E cosa ne viene fuori Grazie ancora a tutti Ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao